A presto 7 7 8 8 6 6 che culo di merda 20 cassetti 6 a 3 faccio faccio 6 6 6 6 cazzo da torta ora Caterina 6 9 9 1 tarun 1 tarun Caterina 6 6 9 Come? Come? 8, 7, 7, 7, mi sono sbagliato. 7 a? 7 a? A 5. 3, a 3, a 3, a 4. 4. 7 a 4, o stai strapassando? Dai! 7, lo dice? Viva la stra... Giorgio! Le vittorio, le vittorio! Ferma! Si, sepe... Non so mo' da te oi tu! Casente! 8, 4... Tagli' 3, 4... Muraaaaaaa! ora 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8